Eccola qua, ti muovate il secondo prima per la tua provenienza e l'età. Ho 18 anni e benvenuto a Taviano. Facciamo un applauso. Maione Benedetta con tra due minuti è primavera. Grazie. I giorni vanno via senza lasciare un segno dove ritrovare in poi. Il tempo passa e non si può fermare, ti chiederai perché. Se i sogni sono sempre da esibire, di che sostanza è fatta la realtà? Un giorno poi ti sveglierai e forse allora capirà. Che l'amore proprio per te sarà per sempre. Insegnami a respirare, più si va in alto e più si fatica. Ascoltami e poi ricordarti tra due minuti è primavera. Dammi un motivo per continuare, dimmi che non sarà un'avventura. Proteggimi se vuoi, abbracciami e da due minuti è primavera. E dimmi un'avventura che scegliere e vincere la tua memoria. E dimmi stare tutti i giorni il tuo sorriso, anche quando piangerai. E dimmi stare tutti i giorni il tuo sorriso, anche quando ti sveglierai. E dimmi stare tutti i giorni il tuo sorriso, anche quando ti sveglierai. E dimmi stare tutti i giorni il tuo sorriso, anche quando ti sveglierai. Ascoltami e poi ricordati Tra due minuti e primavera Insegnami a respirare Dimmi che tu sarà un'avventura Ascoltami e poi ricordati Tra due minuti e primavera Ascoltami e poi ricordati Tra due minuti e primavera